Ciao amici, chi non ama un buon caffè? Per noi è il rituale della mattina e lo è per molti italiani e anche nel resto del mondo. Purtroppo a tante persone capita di non poterlo più bere per un po' o per sempre. A volte è il medico a dire no, a volte è una scelta personale perché sentiamo che stiamo esagerando e magari i caffè presi ogni giorno si contano su due mani. In ogni caso questi sintomi scientifici dimostrano che si sta assumendo troppo caffè. Se volete saperli anche voi mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Tachicardia. La caffeina è uno stimolante, lo sappiamo, ma cosa succede al nostro corpo? Il caffè ci dà la sensazione di essere più svegli perché accelera la pressione sanguigna e il battito del cuore e ha un effetto vasocostrittore, cioè provoca una riduzione del diametro interno dei vasi del sangue. Secondo l'American Psychosomatic Society il 20% degli ictus è legato al consumo di caffeina. 2. Causa insonnia. L'effetto stimolante del caffè può facilmente disturbare il sonno, soprattutto se bevuto nel pomeriggio o ancora peggio la sera, magari dopo cena. I sintomi sono difficoltà ad addormentarsi o risvegli notturni con tachicardia o anche ansia e agitazione immotivate. Questo è dovuto alla produzione di adrenalina stimolata dal caffè. 3. Danni ai denti. Chi beve il caffè con lo zucchero, magari bianco, deve stare attento alle carie. Oltre a questo, i tannini presenti nel caffè colorano i denti di giallo e la caffeina è tra i responsabili del bruxismo, cioè di grignare i denti durante la notte e svegliarsi con dolori alla mascella. 4. Effetto diuretico. Il caffè ha indubbie proprietà detox e dimagranti, ma spesso stimola la diuresi in modo eccessivo o indesiderato. Il problema non è andare al bagno una o due volte in più, ma l'eliminazione eccessiva di liquidi che questo comporta e che può portare a uno stato di disidratazione. 5. Troppe calorie. Chi beve il caffè senza zucchero non ha questo problema, ma tutti gli altri. Tutte le bustine di zucchero consumate sono calorie fantasma che accumuliamo senza rendercene conto, ma che a lungo termine diventano quei chiletti di troppo che non vanno via. 6. Dipendenza. Nei paesi occidentali il 90% degli adulti beve caffè ogni giorno e se salta un giorno riporta strani sintomi come mal di testa, irritabilità, senso di malessere. Si vede che ha bisogno di un caffè. Purtroppo sono sintomi della dipendenza da caffeina e zucchero. Altri sintomi sono pulsazioni alla testa, stanchezza, incapacità di concentrarsi, irritabilità e sbalzi di umore. 7. Aumenta lo stress. Ma non si beve contro lo stress? È solo un'impressione. La sensazione di tirarsi su con un caffè nei momenti di stress è solo apparente. A livello fisiologico il caffè stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress appunto. Nel lungo periodo questa produzione costante di cortisolo causa aumento del peso, pressione alta, sbalzi di umore, ciclo mestruale irregolare. Per sapere cosa bere come alternativa al caffè potete guardare questo mio video e ovviamente iscrivervi al canale per seguire tutte le nuove uscite. Basta un clic così attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano, bevi sano e vivi meglio. Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!